Oggi prepareremo un ottimo LILIPOA! Per la realizzazione occorrono due limoni, due pompe il mirosa, due lime, quattro arance, mezzo litro d'alcol, mezzo litro d'acqua, mezzo chilo di zucchero. Dopo aver lavato accuratamente con acqua corrente ed asciugato i nostri agrumi, iniziamo a sbucciarli. Si deve presentare così solo la buccia senza la parte bianca. Intanto mi sono portato avanti con il lavoro. Adesso mettiamo tutte le bucce all'interno di un contenitore di vetro col tappo in modo da poterlo chiudere ermeticamente. Ora versiamo nel suo interno l'alcol in modo da coprire tutte le bucce. e si lascia macerare per sette giorni al buio agitandolo una volta al giorno. tra scorsi sette giorni l'alcol ha assorbito tutti gli oli essenziali conferendogli un colorito e un profumo agrumato. adesso prepariamo lo sciroppo mettiamo il mezzo litro d'acqua con il mezzo chilo di zucchero all'interno della pentola prendiamo una frusta e mescoliamo finquanto lo zucchero non si sarà del tutto sciolto nell'acqua questo è il risultato finale un bel sciroppo denso e corposo adesso lo mettiamo da parte per farlo raffreddare adesso è ora di filtrare l'alcol togliamo le bucce ora uniamo lo sciroppo all'alcol mescoliamo adesso non ci resta che riempire la bottiglia tappiamo il risultato che abbiamo ottenuto è un liquore con un bel colorito agrumato vi consiglio di deporlo nel congelatore in modo da averlo al freddo quando vi arrivano ospiti vi saluto a presto sedice you get happy in the pizza when you mambo italiano italiano Grazie a tutti.